La scelta del festival nasce da un primo incontro che abbiamo fatto circa tre anni fa che si chiamava Un altro sguardo e poneva l'attenzione sul rapporto tra disabilità e letteratura nell'infanzia. Un festival interamente dedicato ai bambini da 0 a 6 anni. Ad Arezzo è infatti arrivato meno alto dei pinguini, tre giorni di incontri, spettacoli, giochi di sabbia, danza, allattamento al seno, teatro e installazioni per produrre materiale didattico per l'infanzia convolgendo i piccoli e le loro famiglie. I bisogni e le curiosità rispetto al tema dello 0 a 6, che altro non è che la fascia d'età dei bambini tra 0 a 6 anni, erano numerose, tante curiosità, tanti punti anche di carattere pedagogico e non soltanto da sciogliere e tante innovazioni che non avevano trovato ancora un luogo e un momento per poterle riflettere e discutere. Da qui l'idea di creare un festival diffuso in città, su più location, tra teatri, spazi di animazione e convegni, che potessero appunto ridare fiato, linfa vitale, a queste curiosità e al bisogno di riattualizzare un progetto che deve porre al centro il bambino con i suoi tempi, i suoi bisogni e le sue attitudini. Un festival itinerante con campo base alla borsa merci in piazza Risorgimento, ma con appuntamenti sparsi in altri sedi della città. In una proposta come questa ogni bambino seguendo le proprie curiosità andrà a studiare come fa uno scienziato quelle che sono le sue appunto curiosità andando ad apprendere realmente qualcosa che in quel momento gli serve apprendere. Quindi non c'è un'età, ogni bambino gioca in un modo molto diverso. Durante il festival l'azienda casentinese TLF Timber Lab ha deciso di donare alla città un gioco inclusivo e salato al Parco Pertini. Questo gioco ha la particolarità di avere l'apertura a livello terra del gioco, in modo che anche un bambino in carrozzina che ha difficoltà motore può entrare senza nessun impedimento a giocare insieme agli altri bambini. Inoltre il pannello attività che è del gioco del TRIS può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno dai bambini anche in carrozzina, giocando insieme anche a bambini che sono dei soggetti senza problemi.